... Direi anche di più, diciamo fino al secondo gol che abbiamo subito noi che è stato un po' quello che ci ha tagliato sia le gambe ma soprattutto sul piano mentale la squadra è crollata. Credo che sia l'aspetto più negativo di questa partita perché il risultato negativo, la sconfitta ci può stare perché siamo tutti quanti consapevoli che è una squadra che ha un potenziale che non ha nulla a che vedere con il nostro. Però questo aspetto mentale mi dispiace, è la prima volta che ho visto la squadra che ha mollato e invece la nostra forza mentale, la nostra voglia di lottare su tutti i palloni, di combattere fino ad oggi era stata la nostra arma in più. Però sicuramente quello su cui dovrò lavorare in settimana è proprio questo aspetto perché poi gli errori tecnici li abbiamo fatti oggi ma li abbiamo fatti anche in altre partite. L'aspetto più negativo è l'aspetto mentale. Qualche buona occasione il Benafro l'aveva anche creata nel primo tempo, poi è arrivato proprio lo scadere, il gol anche un po' fortunoso per la Samba nel finale appunto della prima trazione. No, nel primo tempo abbiamo fatto la nostra partita, una partita equilibrata che si giocava sul piano dell'equilibrio, una delle due squadre avrebbe potuto sbloccare il risultato su delle situazioni, su degli episodi. Poi abbiamo preso il gol mi sembra negli ultimi 30 secondi del primo tempo, ci siamo riorganizzati mentalmente, siamo ripartiti bene. Poi ribadisco il secondo gol, la squadra ha avuto veramente un crollo psicologico e ribadisco quello che ho detto prima, l'aspetto più negativo. Perché questa è una squadra che noi dobbiamo lottare, abbiamo la consapevolezza del tipo di campionato che dobbiamo fare, che è quello di grande sacrificio. Però dopo l'atteggiamento finale, dove la Samba Nettese chiaramente è venuta fuori con tutta la qualità, con tutto il tasso tecnico che ha nettamente superiore al nostro, però la squadra si è allungata, rimasta in campo veramente, già sul 2-0 non vedevamo l'ora che finisse e questo sinceramente è la cosa che è peggiore.